La prima volta che vedo l'invenzione e beneduto in Sardegna, è beneduto in questa domanda, questa domanda è un Michaledo Mundula, questa domanda è mia nonna, Vittoria, Michaledo Mundula. La mia vita è l'indirizzo di Tiumeo, Nicolino Michaledo, da un giornalista danese che si interessa di archeologia e con l'occhio da Tiumeo per il suo buono che si interessa di archeologia. E si è stato in noche uno mese e questa fotografia è stata proprio l'anno in questa domanda. Vesce Fridolin, chiedendo a io da che sette anni, sono mia nonna, mia e Tiumeo. E si è stato in noche uno mese e sono andato in giro a Bidè Nuragese, a Bidè questa foresta pietrificata da Carrucana e a Bidè pure un fesce che si è che baiata e si abitano a Facca. E in una decuccia bella Fridolin ha inteso per la sua prima ossa sull'uono di Sala Uneddas, la sua naia da Felicino Pili. E questo strumento che agli antichi l'ha tanto affascinato e interessato che pare che proprio da cui c'è occasione Fridolin è parte deciso di incominciare sul studio di Sala Uneddas.